Ecco ti buonan di SETCO, io mi sento in Aruba per come si realizza un'evaluazione delle condizioni di rifineria. Prima di fin di anni il governo spera di conoscere le decisioni delle compagni e le fattibilità operazionali di rifineria. Il firmamento è che SETCO Petroleum Corporation ha comprometto per fare un'evaluazione tecnico-economica di rifineria in Aruba. Però il governo è molto contento che la compagnia, perché il governo è molto contento di fare un'evaluazione pertinente. Il primo che mi firmo è un'evaluazione di due bandi, ma è un'evaluazione preliminare. Un'evaluazione che è meno detallata, meno intensa, ma anche un'evaluazione di red, se c'è qualcosa che non è quadrato con quello che c'è. Quindi sono state in Aruba, è un'evaluazione di un'evaluazione, ma anche un'evaluazione di un'evaluazione di un'evaluazione. di SEDGO. di Pedevesa e ha 3 refinerie grandi in America, processando 750 mil barri di azeta per dia. Una empresa con más de 6 mil stazioni di gasolina e 60 mil terminal petrolero. Mirando il mercato volatil di crudo, lo importante è che il socio nuovo di Aruba del settore di azeta ha un socio estratégico con il petrolero, junto con Valero lo comisare, custodio e condizioni fisico di refineria. Lo va a evaluar, ha fatto una evaluazione nella refineria, lo ha fatto una evaluazione conjuntamente con l'ejecutivo della refineria di Aruba, che è quello che è stato fatto a Valero, e anche con gli esperti, con il governo che ha fatto una messa di parte di refineria, di operazione, di parte tecnica, di parte economica, però veramente anche di parte fiscale e di parte juridica. Valero ha fatto una cooperazione total con la refineria e la informazione necessaria per dell'evaluazione tecnica di gentile e il paquete. E Valero sta completamente di accordo con noi e con la compagnia che nel momento che ha una conclusione positiva e con un certo che abbiamo fatto una operazione qui, è qualcosa della sua totalità. che è arrivato a parte di transshapment, di refineria, di local marketing, fu le operazioni che hanno fatto un po' di Valero. Quindi non c'è nulla, poi via. Quando abbiamo una discussione, abbiamo chiesto di una discussione politica o di qualcosa che abbiamo visto che Valero non c'è bene il transshapment, Valero non c'è bene il Signor, Notizia Benochi. Lo che ti interessa del governo lo attende il modello Cusetco, il modello Nancolo, l'impatto e l'instituzione economica e finanziaria di Aruba e la Caja del governo.